Moderation Racer è un gioco che io ho sempre apprezzato che però non ha mai ricevuto questo grande supporto sia dagli sviluppatori sia dai fan la casa che l'ho sviluppato è andato in bancarotta dai fan, almeno quelli più spiegatati, dopo un po' non se ne sono più cagati e finora è rimasto solamente la sua versione per PS3 e esiste però ancora una versione per PS Vita però chi si è comprato la PS Vita, diciamolo quindi, che cosa sto facendo questo video? beh, come voi avete sicuramente visto il titolo questo video è puntato a vedere delle cose che vorrei che succedessero nel mondo di Moderation Racer per iniziare un sequel cioè queste cose sono le cose che vogliono il sequel quindi, come prima cosa per questo sequel sarebbe, ma questo è un po' scontato grafiche e texture migliori cioè, perché il gioco era per la PS3 la PS3 aveva delle capacità tecniche incredibili però, diciamocelo, sta invecchiando e non è neanche tanto bene tramite questo afforzamento grafico il gioco potrebbe prendere una nuova vita poi, nuovi stili per la customizzazione perché la customizzazione era buona però poteva dare di più aveva un grande potenziale in particolar modo sarebbe bello anche modificare di più il proprio corpo dandogli un po' più di forma, possiamo dire per favore, non prendete la mano non voglio essere bannato da YouTube e per il veicolo mi piacerebbe anche vedere qualche customizzazione in più ora, è da un po' che non ci gioco perché mi manca un controllo giusto per la PS3 ma appena lo trovo un controllo giusto ci gioco sicuramente però, sarebbe bello avere più customizzazioni in cose come marmitte interni magari anche, che ne so un sole capsule personalizzato come si può fare in GTA cioè in GTA che è un gioco che parla di criminali si può fare mentre un gioco incentrato sulle cose no poi mi piacerebbe avere una nuova story mode che può anche seguire quella precedente però non ce lo vedo molto magari con un nuovo personaggio che però rimanga simile a quella che c'è stata di base perché è un gioco di corso un gioco per rilassarsi e questa non deve essere troppo pesante e per questa nuova verità storia sarebbe bello vedere una serie di nuovi circuiti ecco un altro punto nuovi circuiti questi nuovi circuiti potrebbero anche essere più libri magari sparsi in giro per il mondo però un'altra cosa che mi piacerebbe vedere come circuiti sono anche i vecchi circuiti ma le masterizzati aggiungendo anche dettagli in più con le nuove grafiche eccetera eccetera poi per la costumizzazione di livelli già è molto buona così però magari sarebbe bello fare le piste un po' più grandi e poi porting e poi il sequel aggiustamento è per ps5 poi si riesco a trovare anche un accordo se riesco a trovare anche un accordo sarebbe bello fare i porting altre per altre console come per esempio switch o bo il pc e questo è vero è praticamente tutto se volete sapere se volete sapere se volete vedere il gameplay di World Nation Races allora iscrivetevi al canale anche perché non so come si registra lo schermo e da qualche altro ci vuole una capture card ma non ho i soldi ciao ciao